La Coppa Italia di Isci di Fondo, andata in scena nel fine settimana a Falcade, ha visto la vittoria di Davide Grazzi. Il fondista di Sappada si è giudicato entrambe le giornate dell'evento, organizzato dallo Sciclub Valbiois e dedicato ad Ernesto Fenti. Tra le donne una vittoria per Caterina Gantz e una per la statunitense Margie Fried. 230 i concorrenti al Via, alcuni provenienti anche dall'estero. Nella prima giornata, dedicata alla tecnica classica sulla distanza di 10 chilometri con partenza a cronometro, dietro l'azzurro Grazzi si è piazzato Giovanni Ticcò e Giuseppe Montello. Nella seconda giornata, riservata alle gare in tecnica libera di inseguimento, Davide Grazzi ha concesso il bis, precedendo il friulano dell'esercito Martin Corradazzi e il belunese Elia Barp, che proprio sulle nevi di Falcade è cresciuto agonisticamente. Bellissima gara quella vinta da Grazzi, con il Sappadino partito fortissimo e capace di incrementare il distacco iniziale. Dietro una grande battaglia tra Corradazzi e Barp. Un weekend che mi ha servito un po' a sbloccarmi, come si dice, era un po' ancora con cattive sensazioni dopo il mondiale di Planizza, che non era andato così bene. Ieri un po' peggio, oggi un po' meglio, quindi tutto sommato un weekend positivo. Penso che come prima stagione da senior sia andato più o meno tutto per il verso giusto. Ho fatto le mie belle gare, la mia bella esperienza nel mondiale Ander 23 mi sono distinto bene, al mondiale senior ho fatto quello che potevo fare. Per il resto ho visto che bisogna lavorare tanto, ma pian piano si riuscirà, non è una strada impossibile. Lo sci club Valbiois, in collaborazione con Sportful, ha ideato per il migliore e la migliore atleta Ander 18 di giornata il premio speciale dedicato alla memoria di Giovanni Vielle, giornalista e speaker specializzato nello sci di fondo.